... ... è morto di un buco strano ma sei un po' di voi sai quello che devi dai ciao ciao il pallone mi ha appunto l'acqua il pallone è usato l'anno scorso in tempo in stranina guarda 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 il mio bomber dance il mio bomber dance il tuo Ivan ha avuto quest'idea Ivan dopo ti dà un bacio in buco hai indovinato allora ho lavato le scarpe e si sono estrette erano anche i coglioni scusa ho fatto il buco a sto pallone e chi l'ha scritto sarà la scelma se lo buco è lei solo uno non c'ha fatto la dedica solo uno non c'ha fatto la dedica gira qui gira non ce l'hai visto bianco è lì non c'ha fatto la dedica mongoloide bravo vaffanculo non c'ha fatto mi scrivo su un cazzo la prossima volta appunto è non c'ha fatto la non c'ha fatto la non c'ha fatto la ma bellissimo però lì è usato il mio l'anno scorso in champions vabbè nera azzurro è perchè è il pallone della champions perchè è il pallone della champions l'anno che sei ma quest'anno sono generoso uno solo ti vedete ma ma guarda o meglio l'idea del pallone l'ho avuto io che lei ha avuto un'idea e io gli ho detto sarebbe bello il pallone non c'è il pallone dei peccatori però come fai se non è giusto che lei ha avuto graffiamolo noi come ti vediamo che c'è che è il pallone genio ma poi anche Dago vabbè Dago non l'ha pagato Dago non l'ha pagato neanche Dario Dago perchè era lì e gli ho detto poi mentre era lì aspettava Dago aspettava Dario che doveva prendersi la maglia lì che evi mi pare e quello Dario guarda che era lì non l'ho capito cos'è sta roba cos'è questo cos'è questo non l'ho capito è lumina ma le caramelle dove sono io voglio le caramelle vabbè grazie non è finito ritengo sarebbe infortunato è quello cerca ce ne sono altre ma che cazzo mi avete fatto io non l'ho fatto cose così complicate ma tu guarda ma io non avevo nessuno adesso io non ho già capito non l'ho capito ma anche io non l'ho capito ma io ne vedo uno da qua in mezzo alla camera ma che cazzo c'è oh ma io non ho fatto tutte queste cose a voi adesso apri tu e tanti mi si è guaiato ma tu guarda no ahahahahah tanto dove li avete prendito questi bordi ah questa fa tutto lei che voglio eh aspetta facendo il video sta pazza di cazzo aspetta ma va non credi è il campeggio Ivan perchè mi guardi così? mi devi guardare con le spalle quattro minuti per cinque minuti ma scusate c'è scritto eh io te lo faccio che faccia Ivan perchè mi guardi così? perchè sta aspettando il tuo bambino ah bella ti ha provato il regalo eh? è perchè c'è scritto altri ok un altro ecco ehi ehi ah 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 lago lago mi ha portato il pallone nel sacchettino mi ha portato il pallone perchè tanto non questo lo userebbe e lui no no ma questo è lago che usero loro e io ah va bene lago eh è più o meno come Maradona no? lago che usava Maradona per la bucazza ah può essere ah vabbè grazie è anche troppo l'avviso anche soprattutto tutta la confezione c'è ah lago ha aperto lago non volevo vedere la faccia vedi il migliettino ma io lago ha aperto eh io vallo San Giacomo perchè cosa sei? la scatola che cos'è? una scatola si ma rarca sempre a un ecco un accendino no no un orologio la scatola se tu guardi non lo voglio ma meno male che tu non hai fatto quelle cose eh eh non vorrei trovi l'altra scatola più prima può essere può essere può essere e talenzo c'è lì chi va le giardine? chi va le giardine? ah glielo non mando male io per qua non si posso vedere più la casa che sto le firme quello devi dare ma non c'è ma non c'è ma non c'è ma non c'è no l'ho rifatto l'imbambito non l'hai visto la foto su mamma no no l'ho rifatto non l'ho rifatto ok ma non c'è 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 l'altra sera siamo arrivati al concerto di cabarezza io sono attaccato con T-Max torniamo lui scappa in casa che c'è un fratucane io prendo T-Max allora all'uno e a mezzo non so ma c'è vado aspettare che arrivavo Ah sta prendo anche ischia E tu è il più trisca di tutti Dai 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 con i tuoi plan E poi se non viene che fai? Gigi ma apri questo e ti vede lo pericoperto A poco a casa Ormai l'ha aperto, teniamole con i tuoi pericoperto Gigi non lo vuole aprire A poco a casa io Vuoi una mano? una mano ti doy una mano Matteo eh? ecco, mi ricordo che non vi eserate perchè proprio non c'è neanche arrivato minchia veramente, io pensavo che era questa scatola della... si, non subito la caccia wow non l'avrei mai mai usato e' un ciarro e' un ciarro